Un sabato con buone performance dei singoli ha chiuso in grande stile l'intensa settimana del salvio, partita con la vittoria di Enrico Belleni alla finale del Superfrustino, quarto centro per il top driver toscano, proseguita nel segno di via Colvento Gar e giunta all'epilogo con le luci della ribalta sull'ospite Talent B, inviato di Eric Bondo, che ha regalato il triplo in serata ad Andrea Farolfi, vincendo in 1.14.3 il trofeo Gardini per arredare sull'iniziale battistrada Naxos e sul diligente Occellotto. La seconda corsa, con dieci validi esponenti della New Age del trotto italiano impegnati sulla breve distanza, è stata però la più importante per Montepremio, non solo, anche ovviamente per la stimata debutante Zaira Dei Veltri, vincitrice alla prima uscita a Torino, che Andrea Farolfi ha interpretato da par sua, accompagnandola al secondo successo di una fulgide carriera, ottenuto alla media di 1.18.6 su Zumbans e su Zenzalinaz, giunte simultaneamente sul palo. E ora il Savio riapre domani sera, con l'ultima settimana di corse e con il premio Teleromagna valido quale tris con quartè e quintè.